Piazza Vittoria domenica 5 marzo 2017 al termine della Corsa Rosa. Abbiamo visto prima sul palco questo bellissimo gruppo di donne che appartengono a Brescia Pride e qui ne abbiamo la Presidente. Buongiorno, il suo nome? Manuela Fazia. Buongiorno Manuela. Ci raccontavate prima di iniziative che avete già pianificato, messo in campo? Ce le vuole dettagliare? Poi è bello vedere tutta questa partecipazione per questi eventi che vengono vissuti con passione, con impegno e con voglia di fare. Questo credo sia il motivo bello per il quale queste cose procedono così speditamente. È vero, siamo partite con tantissimo entusiasmo. Cinque associazioni promotrici che sono Le Caramelle in Piedi, Chiesa Pastafariane Italiana, Equanime, Donne di Cuori e Pianeta Viola. Abbiamo deciso di fare questo progetto per abbracciare tutta la città. Il nostro slogan è unire la città, quindi un percorso rivolto a tutte le persone che credono e lavorano perché ognuno di noi abbia il diritto di vivere dignitosamente, da tutti i punti di vista. Quindi è qualcosa che ci tocca a tutti e tutti. Un percorso fatto di eventi, potete vederli sul nostro sito www.bresciapride.it, sono tantissimi. Sono eventi culturali, di promozione di cultura, eventi anche più leggeri, concerti, aperitivi, che comunque sono anche quelli momenti di sensibilizzazione. Partiamo da temi specifici nostri che riguardano la nostra esperienza come lesbiche, gay e trans, ma siamo aperti anche a molti altri temi. La conclusione di questo percorso sarà il 17 giugno, con una giornata che sarà sicuramente una giornata di grande festa. Qui siete invitate tutte e tutte. Presidente, chi volesse partecipare alle vostre iniziative lo può fare visitando un canale, abbiamo detto una pagina Facebook, ci dia meglio i dettagli, così chi volesse conoscerevi più da vicino lo può fare. Allora, il sito è www.bresciapride.it, pagina Facebook è Brescia Pride, e pure c'è l'indirizzo mail, info, chiocciola, bresciapride.it. Chi ci vuole conoscere meglio ci può scrivere, è una Pride che noi vogliamo basare sulle relazioni, la nostra base è le relazioni, quindi conosciamoci e cresciamo insieme. Questa è la filosofia di base. Grazie, allora andiamo a conoscere anche le altre componenti del gruppo. Ciao, il tuo nome? Ciao Katia. Ciao Katia, andiamo avanti. Accanto a Katia abbiamo... Milena. Milena, mi sposto da Milena, andiamo a conoscere... Marzia. Marzia, che prima ha tenuto banco sul palco, l'abbiamo sentita. Accanto a te... Gabriella. Gabriella, la Presidente l'abbiamo conosciuta, e grazie quindi a Brescia Pride. Buona domenica.